Il componente del governo Draghi e con lui passeremo la palla sul governo. Ma prima Emanuele Trevi, premio strega, due vite, che idea si è fatta? Ma io posso confessare una cosa, vorrei portare questo dialogo fondato sulla realtà, su una specie di realtà parere, ma sono ossessionato da Silvio Berlusconi, non ci pensavo da vent'anni praticamente, ma io mi sembra che quello, se Mattarella avrà vinto, ma proprio abbia trionfato, ma in una maniera, che io vorrei commentarla con voi che siete persone, perché lui qualche anno fa era ai servizi sociali che è un'alternativa alla galera e lui ha fatto una cosa, si può spendere la parola del genio, perché anche quando telefonava a loro ha ottenuto, no però tanti che l'avete detto, che l'avete ricevuto, insomma sono tanti, persino ai regali, era un grande elettore, adesso diciamo, ma la sostanza è che anche tu non gli chiudevi il telefono in faccia, la faccia diceva, mi dispiace, guardi in un altro mondo lo fai, e questa è una vittoria pazzesca, lui ha fatto una cosa che non c'entrava con la corsa al Quirinale, perché in quelle telefonate il sì e il no valevano come il riconoscimento di un ruolo nella storia italiana, nel tutto pulito, e poi si è andata all'ospedale, perché non era credibile nemmeno l'ipotesi Quirinalizia, e questo è stato una cosa che secondo me tra persone di ingegno va un attimo ricordata. Allora guarda, cartello 20, Berlusconi e la giustizia.